Ancora una volta, ciao ragazzi E io sono Diego Oggi però Siamo sempre su Minecraft Un po' di tempo che non portavo tante mod E Siamo ritornati con tante mod Quella dei computer La Mecha Craft Questa Dei veicoli La NPC Quella dei telefoni Computer Ora ve lo farò vedere Ricordo di lasciare un pollicione in su Se volete vedere Non ve lo chiedo sempre Però per video così Ci potrebbero stare Ora andiamo in un posto Che almeno qua Che è molto Spianoso E cominciamo Vediamo questo arancione Poi Il mod Il router Sempre arancione La stampante Sempre arancione La sedia Sempre arancione La chiavetta Sempre arancione Qua Qua non mi interessa Mecha Craft Vabbè dopo Andiamo a vedere Si apre Oh Ecco Aspettate Non ho rotto il computer Non ho rotto il computer Niente Proviamo un po' qua Ok Ok Poi Qua andiamo a mettere Il router No mi sa che mi servono pure I clavi Giusto Non mi sbaglio Si Ok La stampante Che bisogna collegarla pure a questa No Vabbè Mettiamoci la sedia No La sedia No No Che due cogliotes Il gioco è legato Perfect Oh Wow Che figata Vediamo Non si fa niente No Così E' bello Ora Facciamo più via Tutte queste cose A me che Craftfish Mettavolino Allora viene Su tutte cose Che già conosciamo Ora ve le faccio vedere Il forno La cosa Non mi ricordo Come schiamo Tavolino Tavolino Seggiolina Livanetto Lampadina Frigo Forno Vabbè Poi Poi Tutti i sassolini Per andare più carino Il sentiero Per andare verso casa La luce La luce Poi ci abbiamo Il La toilette Il basin Il bat L'albero di Natale I regali Cose Diciamo Sì sì Questo Il trampolino La cosa La griglia Trampolino Sì Trampolino Quello si chiama Trampoli Mi sa Qua Stai un attimo Perché Ma si è sentito Speri Ascoltiamo Non so Qual è Con G Se premo G Scurage Vabbè Qua Sì Poi si riempie L'acqua Sì La vasca Poi questa Si riempie L'alberino Si ribalza Uh Che figata Joink Poing Poing La griglia Che se metto Andiamo No Cosa ho scritto Carne Non so Bistecca Bistecca Senti Facciamo Direttamente Nei cibi Perché Se no Prendiamo Domani Poi si prende La spatola Se sentite Dei rumori Sono i muratori Sopra Che stanno Facendo lavori Ovviamente Carbone Non so Se avviene La carbonella O il carbone Prendiamo La scurezza Prendiamo Tutte e due Poi l'accendino Sicuramente Vole accendere Andiamo Eeeh Tutto Tutto Rotto La carbonella Si infatti La carbonella Tutto Tutto Rotto Eeeh La miseria Ecco Si è acceso Poi quando Vedete che fanno Fumo Con la spatola Premete Col tasto A destra Tutto Rotto I muratori Hanno rotto Un po' Le palle Ecco Guardate La Via Non serve In più Ma l'hanno fatto Eccola No no Non ti bruciare E che Ecco Ecco Tutto Rotto Si sta rompendo Tutte cose Ha comunque Il taglio Di capelli Ti ringrazio nei commenti Se vi piace Dai andiamo avanti La Apple Oh Ma c'è un altro 500 cose Da Veicoli Bart Non la Bart Mi ispira Fuoristrada Adesso vediamo pure NPC La Apple Uh ragazzi Questo è il telefono Di Lion Il joystick Per la Play Telecomando La Switch Tutti i colori Vabbè I orologi Molto bello Se Non vediamo i veicoli Fuoristrada Bello Si può anche colorare Poi qua Mettiamo la barca Tutto rotto Tutto rotto Non la piazza Non ce la faccio più Mi si sta esplodendo Il computer Mazza bella Sta barca Vabbè No Quando me la faceva piazzare Ma dov'è NPC NPC Mettiamo Zipeppe Andiamo a selezionare Beh Bodyguard Beh Zipeppe Aspettate un attimo Vabbè Vabbè Poi comunque Voi decidete Uh Non avevo visto Guardate qua I giochi per la Play Per la Play Per la Play 4 Per la PlayStation 4 Minecraft Fornite GTA Poi ci sono per Xbox Vabbè Secondo qua Rocket League Resident Evil 4 Poi Switch Xbox Belli comunque Guardate si vede Eh ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un pollicione Per sto video speciale E io vi auguro Una buona giornata E io vi auguro